un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri oggi parliamo di un romanzo per ragazzi a partire dai 13 anni ma che ci sentiamo di consigliare anche a chi ha qualche anno in più mi riferisco a Sei la mia stella scritto da Elisabetta Belotti pubblicato dalla casa editrice Einaudi nella collana EL parliamo di questo libro proprio insieme a Elisabetta benvenuta con noi benvenuta, benvenuta Erika, buongiorno è davvero un piacere tornare a parlare di un suo scritto il precedente era Viola nella rete tra l'altro i nostri ascoltatori e spettatori potranno trovarlo anche online per chi volesse approfondire questo tema un tema davvero molto attuale parlava di internet, ovviamente delle trappole di internet e torna adesso con un nuovo romanzo per una fascia d'età un pochino più grande in questo senso ma con temi davvero importantissimi si parla di due ragazzi di Leone e di Stella due ragazzi molto diversi tra di loro con due strade che sembrano già tracciate e decisamente distanti una dall'altra ma che per un incontro fortuito poi ne parleremo insomma si trovano a incontrarsi e a piacersi detta così sembrerebbe una cosa molto semplice accade tutti i giorni ma in realtà è molto più complesso di così e la loro unione, il loro affetto non sarà così semplice da portare avanti ma facciamo un passo indietro innanzitutto come nasce l'idea di questo libro? Allora l'idea di questo libro nasce un po' sempre dal mio lavoro e dalla mia professione e il fatto di stare a contatto con degli adolescenti che dalla prima alla terza media cambiano tantissimo quindi evolvono anche nei gusti musicali o nei gusti infatti di libri eccetera e il genere del rap mi ha sempre incuriosito anche quando ero più giovane io perché in realtà non è nato ieri quindi in realtà ci sono delle tematiche del rap che mi hanno sempre incuriosito e il fatto che nelle mie classi molti miei alunni ascoltassero il rap mi ha un po' portato su questa strada quindi con delle tematiche che fossero quelle della crescita sempre legate quindi all'aspetto delle storie di formazione e della crescita ma che non fosse più focalizzato sul cyberbullismo bullismo come era in viola e anche per un target un pochino più piccolo quello delle scuole medie direi che questo va dalla terza media in poi come tipo di target quindi già magari anche nel bienio delle scuole superiori o comunque la terza media come gusti e come possibilità dell'immedesimazione e mi sono trovata ad immaginare insomma questa storia come un ribaltamento dei soliti cliché perché in molte storie che hanno anche la componente della storia d'amore c'è la diversità sociale quindi c'è o il fatto della ragazza più carina che va bene a scuola eccetera che si innamora del tipo duro fra virgolette che ha un tipo di carattere particolare e che viene da un posto diverso dal suo quindi sono partita rispettando un po' questi cliché però avevo in mente di far subentrare qualcosa di nuovo quindi in realtà anche spinta un po' per diciamo per contraltare da tutte le storie che magari insomma leggevano le mie alunne tipo uno splendido disastro oppure after eccetera un tipo di coppia diversa dove il protagonista maschile fosse diverso non avesse questi insomma questi tratti del maschio possessivo geloso perché non penso che sia un tipo di modello che sia giusto proporre alle giovani sia per i maschi che per le femmine in realtà perché far sembrare affascinante un pazzo maleducato ti fa delle risse tutti i giorni a me sembra qualcosa di assurdo pur con degli aspetti che sono fuori dalla realtà perché se si parla di ragazzi che hanno questa capacità insomma questa facilità nel cadere nella violenza è chiaro che l'aspetto si picchia tutti tranne lei oppure tratta male tutti tranne lei sono proprio fuorvianti e sono quelli che fanno poi fanno cadere nelle dinamiche del cosiddetto amore tossico fra virgolette cioè si chiama così adesso ma in realtà c'è sempre stato quindi volevo proprio scrivere una storia che pur partendo da un certo tipo di cliché e quindi la differenza sociale lei che fosse della Milano bene lui che viene dalla strada sapesse far capire come in realtà poi le situazioni sono tutte diverse e anche nelle storie di crescita e nelle prime storie d'amore ci possono essere degli aspetti che insomma vanno ben oltre lo stereotipo quindi questo ragazzo si viene dalla strada ma non ha assolutamente quelle caratteristiche con cui sono stati descritti molti personaggi di quel tipo quindi saprà tenersi lontano dalla delinquenza saprà migliorare la sua condizione saprà trovare la forza di uscire dal suo ambiente quindi tutte queste cose mi erano chiare dall'inizio ed è stato carino mescolare appunto la storia d'amore quindi rispettando l'avvicinamento, l'innamoramento con però queste dinamiche nella crescita personale di tutti e due i personaggi perché lui cambia molto però anche Stella in realtà cambia nel corso della storia quindi tutti e due si danno una mano a crescere sia come singoli che come coppia che come giovane coppia poi io non ho neppure immaginato poi che stiano insieme tutta la vita insomma sono giovani e formano questa coppia giovane però è una storia sicuramente positiva che li aiuta tanto nella loro fase di crescita ecco e qui hai già toccato uno dei temi importanti del libro ovvero da dove provieni non è quello che ti identifica tu non sei il luogo in cui sei nato è chiaro che il luogo in cui sei nato la famiglia in cui sei nato o nata ovviamente può dare una certa direzione alla tua vita ma ognuno di noi è in possesso come si suol dire del proprio destino cioè ci si può allontanare da quello che è la strada che sembra già tracciata insomma il luogo in cui si nasce quindi questo è uno dei temi non è necessariamente quello che ti caratterizza non è appunto una condanna o non è nel caso positivo non è la benedizione per tutta la vita come non è la condanna per tutta la vita quindi in realtà ho anche cercato di far vedere come nell'ambiente di stella ci siano delle cose molto positive sicuramente la possibilità di studiare la possibilità di avere un certo tenore di vita però ci sono anche delle cose che non funzionano come un po' in tutte le famiglie quindi in realtà non è un ambiente perfetto suo pur dandole molti stimoli e nello stesso tempo non è completamente un ambiente negativo quello di Leone perché è vero che cresce in un quartiere abbastanza degradato di Milano però ha una mamma sana sana caratterialmente sana psicologicamente e un amico almeno che è dalla parte positiva sicuramente quindi pur avendo lui delle zavorre di nascita perché il padre era finito in galera quindi sicuramente l'assenza di una figura paterna in parte sostituita dal padre dell'amico però non è mai non è mai comunque al 100% la stessa cosa però mi interessava di Leone far vedere la capacità di una persona di saper cogliere tutti gli spunti positivi per uscire dalla sua situazione quindi sicuramente l'amicizia con Maurizio che è un ragazzo che vive che poi si è spostato da questo quartiere e che vive una situazione molto normale tranquilla quindi avere degli stimoli importanti che sono quelli appunto dell'avere degli interessi quindi il fatto che gli piaccia disegnare che voglia farne non solo un sogno ma appunto partire da questo per farne un vero mestiere un vero lavoro e anche la musica la musica che che magari non sarà il suo destino per sempre perché a un certo punto vuole vuole cambiare nel senso che si che si vorrebbe dedicare alla passione del del disegno quindi abbandonando un po' la musica però sicuramente questa lo porta a a sapere avere un interesse quindi delle energie convogliate su qualcosa di positivo che non sia bighellonare nel suo quartiere oppure passare da un lavoretto all'altro e nello stesso tempo magari cadere preda della parte negativa del suo quartiere quindi insomma volevo fare vedere come puntando su qualche punto di forza che tutti abbiamo che sia appunto un interesse o una capacità particolare come quella di disegnare si possa far leva su questo per cambiare un pochino il proprio destino per cercare di farlo almeno perché se non ci si prova quando si ha vent'anni poi poi non è facile quindi bisogna provarci nell'età giusta per avere maggiori probabilità infatti nel libro sono ritratti due personaggi appunto come Leone e Stella che sono molto particolari ma allo stesso tempo anche molto vicini a tanti ragazzi che conosciamo forse loro hanno un po' più di coraggio diciamo così nel proseguire nei propri sogni come citava prima Leone in arte è Lion King perché usa come metodo di espressione quello del rap tanto che è diventato un piccolo personaggio nell'ambiente milanese ed è proprio così che conosce in una serata Stella Stella che invece appunto proviene dai quartieri bene è un appassionata di libri e lei si esprime in maniera diversa con le letture con proprio una vita completamente diversa ma questi come dire opposti si attraggono in maniera inevitabile ecco può raccontarci qualche cosa di più di questi due personaggi senza svelarci ovviamente troppo allora sono tutti e due in una fase di cambiamento appunto Stella ha un lutto familiare da superare che non ha non ha ancora non ha ancora elaborato nello stesso tempo vede quasi la fine dell'università comunque non è proprio negli inizi perciò sa che la sua strada sarà quella del libro sarà quella che gravita attorno a questo aspetto della cultura e nello stesso tempo però si sente si sente anche un po' sola perché insomma ha un'amica del cuore fidanzatissima da anni quindi in realtà ha delle amicizie però non è si sente in parte incompresa da qualche punto di vista soprattutto in famiglia ha una un aspetto di protettività nei confronti del fratello più giovane che sta ancora frequentando le scuole superiori e che e che si mette nei guai come molti studenti delle scuole superiori quindi firme falsificate uscite insomma impreviste cose di questo tipo che però in un aspetto poi alla fine sembrerà più maturo di lei cioè nel nel saper saper accettare la perdita della madre e saper saperla rielaborare in un modo che Stella non ha non ha ancora saputo capire non ha ancora saputo vedere quindi anche all'interno della sua famiglia Stella è vero che è la figlia più matura però qualcosa qualcosa le manca ancora insomma nella sua fase di crescita e nello stesso modo Leone si trova un po' a un bivio perché deve scegliere voglio cantare voglio disegnare voglio escludermi dal quartiere però senza vedere cioè senza voler vedere quello che di negativo c'è e quindi mettere un po' così insomma la testa sotto la sabbia oppure oppure voglio denunciare voglio voglio rendermi attivo anche nel nel mio distacco da questo quartiere di fatti si troverà di fronte ad una scelta molto molto dura se appunto esporsi contro questi criminali che lui conosce da sempre perché sono le stesse persone con cui è cresciuto scuole elementari scuole medie insomma parchetto del quartiere eccetera perché poi spesso nei quartieri così e e anche direi nei posti piccoli nei paesi piccoli le differenze sociali ci sono sì ma a volte sono annacquate dal fatto di essere molto vicini quindi di frequentare le stesse scuole gli stessi ambienti o comunque vivere proprio lo stesso quartiere e nella nella sua fase di scelta appunto deve deve prendere coraggio fino ad allora era stato silente nel senso che non aveva si era tenuto lontano dai guai con il silenzio quindi aveva scelto proprio silenzio e il non comunicare con queste persone come una sua come una sua via di fuga in realtà viene chiamato in causa proprio perché insomma avendo scritto una canzone su un criminale del suo quartiere viene minacciato dagli scagnozzi di questo e nello scrivere mi veniva in mente però ma mi è venuto in mente nella fase della rilettura che il fatto di questi due che si si avvicinano verso Leone per minacciarlo e per dirgli che non deve insomma più cantare questa canzone dopo a posteriori ho visto che nella mia mente avevo tenuto in mente i bravi e quindi don abbondio però c'è stato un pensiero a posteriori perché quando l'ho scritto chiaramente insomma tutta una realtà diversa il quartiere il rap però le dinamiche della minaccia dell'omertà e del non dire quasi il nome di questo mandante di svelarlo solo sul finale alla fine Peter era come Don Rodrigo e mi si sono accavallate proprio queste immagini ma nella rilettura è stata una cosa abbastanza inconscia mentre la scrivevo insomma quindi Leone deve fare questa scelta deve assolutamente scegliere da quale parte stare e nel fare questa scelta però non vuole coinvolgere Stella non vuole non vuole esporla a così insomma nessun pericolo perciò deve anche allontanarla e non sa farlo in un modo maturo ma anche lì prende le distanze con il silenzio e senza troppe spiegazioni e quindi questo sarà una delle cose che insomma che diciamo li farà allontanare per un attimo e poi saranno in grado comunque poi di sapersi ritrovare sia per una serie di circostanze fortuite ma in realtà perché lo vogliono lo vogliono tutti e due infatti mentre parlava mi veniva in mente proprio il fatto che una delle parole che mi vengono in mente prima nella lettura è proprio il coraggio cioè il coraggio di prendere delle scelte anche difficili delle strade non battute insomma e comunque il fatto di essere pronti anche al peggio ma sempre con un obiettivo di speranza ma sempre con anche l'amore l'affetto che sostiene ed è importantissimo che sia poi di un amico di un genitore o della propria metà mettiamola così in porta relativamente ci vuole anche l'amore verso se stessi chiaramente credere nei propri sogni in ciò che ognuno di noi poi rappresenta sì infatti questa cosa mi era molto chiara cioè il fatto che sia Stella trovasse il coraggio di superare si sono i suoi problemi sia Leone trovasse il coraggio lo trovano sì nell'autostima che hanno che però essendo in crescita non è non è ancora del tutto proprio brillante definita e quindi il fatto di di sapersi apprezzati dall'altra persona e da una persona così diversa perché Stella vede in Leone non vede non cioè non vede il cantante mezzo famoso o il fascino del 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 bad boy mezzo delinquente queste cose ma vede cioè vede davvero Leone come uno che che sta cercando di uscire dalla situazione dove non vuole più stare e che nello stesso tempo si impegna nelle cose che fa e che sa fare tante cose che ha tante doti e nello stesso tempo Leone vede Stella non come solo solamente la ragazzina carina o comunque benestante carina che va bene a scuola che ma la vede da tutti i punti di vista come anche una una persona molto delicata però all'interno la capacità di di saper portare avanti delle scelte che che sono assolutamente personali e che non sono omologate perché perché se tutte le amiche di Stella trovano comunque un fidanzato all'interno del loro ambiente della loro compagnia dell'università o comunque di persone benestanti lei no nel senso sceglie Leone che ha eh sì sono tutt'altro mondo che viene da una situazione completamente diversa quindi già solo questo che non è una sfida per il proibito ma è una scelta consapevole eh fa capire come Stella sia comunque una persona di carattere pur essendo così giovane davvero due bei personaggi e una storia intensa devo dire in questo nuovo libro sei la mia Stella il gioco di parole adesso è più chiaro anche per chi ci segue e non avesse ancora letto il libro ovviamente è scritto da Elisabetta Belotti pubblicato da Einaudi nella collana EL che è rivolta proprio ai ragazzi una lettura che noi consigliamo non solo ai ragazzi che senz'altro sono il target il pubblico ideale a partire dai tredici anni ma anche agli adulti perché come nel libro precedente spesso e volentieri può capitare che un adulto un genitore un insegnante un parente non capisca esattamente le dinamiche dei ragazzi anche in buona fede ovviamente e questi libri possono aiutare a far capire davvero i loro pensieri anche perché appunto è narrato dal punto di vista dei ragazzi quindi di leone e di stelle quindi entriamo proprio nel loro sentire nei loro pensieri io chiedo a Elisabetta un'ultima domanda ovvero che cosa le piacerebbe che restasse nel lettore una volta finito di leggere il suo libro Allora innanzitutto la spontaneità e l'aspetto della dolcezza e della spontaneità proprio delle prime storie d'amore che sono che sono importanti se sono lette nell'età giusta nel senso nell'età più giovane ma anche rilette quando siamo adulti in realtà ci danno insomma ci danno l'idea di come i sentimenti siano veri a tutte l'età poi hanno delle connotazioni diverse però non ha senso dire sono troppo giovani per amare oppure d'altra parte sono troppo vecchi per amare nel senso che comunque se si parla di amore sono sentimenti che con delle caratteristiche diverse e con delle dinamiche diverse appunto accompagnano tutta la vita quindi in realtà la bellezza e la spontaneità delle storie d'amore che nascono quando si è molto giovani e invece dall'altro lato mi piacerebbe che comunque restasse il fatto dell'aver capito che comunque proprio siamo artefici della nostra storia quindi da qualsiasi ambiente tu provenga qualsiasi sia stata la tua situazione familiare se hai il coraggio di conoscerti davvero e quindi capire che cosa vorresti fare capire quali doti hai capire quali sono i tuoi punti di forza e quindi nella conoscenza di se stessi e nel fatto di sapere appunto guardarsi davvero dentro si può trovare la molla per migliorare sempre quindi non è non è mai preclusa nessuna situazione nonostante possa essere una situazione di partenza che può vederci svantaggiati sia sul piano familiare oppure sul piano economico finanziario o sul piano culturale se noi abbiamo davvero chiaro che cosa siamo e che cosa vorremmo diventare troviamo la forza per inseguire i nostri progetti i nostri sogni che all'inizio sono sogni e poi possono diventare progetti progetti attuabili magari rivisti riaggiustati si può alzare il livello abbassare il livello però comunque possiamo sempre tenere davanti a noi quello che vorremmo diventare e nella fase in cui si è comunque molto giovani tanto più è una cosa importante capire che non ci si deve scoraggiare che gli ostacoli si possono affrontare due messaggi davvero importantissimi sia per i ragazzi che sono in fase di costruzione ma anche per gli adulti perché c'è sempre modo di scoprirsi e di credere ancora nell'affetto e in quello che c'è attorno a noi un grazie quindi Elisabetta Velotti ovviamente consigliato Sei la mia stella pubblicato da Edizioni L grazie per essere stata con noi grazie mille grazie mille della sua intervista Erika buona giornata e altrettanto buon pomeriggio Erika Zini presenta Bookmania interviste anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero Go tell a friend Bookmania dove il libro è protagonista Grazie mille per la prima